Si chiama Tra Palco e Cuore, la serata organizzata da tre associazioni del territorio, Paese dei Balocchi, Cooperativa Tre Ponti e Proloco di Fano. Si tratta di un evento musicale tutto fanese, il cui incasso andrà in beneficenza, in aiuto, chi si trova in un momento di grande difficoltà. È una serata importante perché ha uno scopo importante, quello di raccogliere fondi per una realtà come quella della Mesa di San Paterniano. Artisti fanesi che si sono resi disponibili per cantare gratis, service gratuito, insomma tutti lavorano gratis per poter portare a casa questa serata, per poter raccogliere quanti più fondi possibili per questa realtà fanese importantissima. Poi non dimentichiamo il ricordo anche di una persona che ha costruito quel luogo, l'ha proprio fisicamente anche costruito ma l'ha soprattutto pensato, in anticipo rispetto a tutti, è un luogo dove ci incontreremo e questa persona sarà ricordata nella serata che è Fabio Guccioni. L'iniziativa in programma venerdì 9 luglio alle ore 21 alla BCC Arena di Tre Ponti vedrà salire ed esibirsi sul palco dopo un lungo periodo di fermo dovuto al coronavirus diversi musicisti e cantautori fanesi. Mi hanno chiesto per l'appunto gli organizzatori di radunare alcuni artisti, di chiedere di coinvolgere alcuni artisti, artisti che sono Icarta Carbone, Marco Sanchioni, la Borghetti Bugaron Band, Eleonora Fiorani e Simone Cardinetti con il loro nuovo progetto Annita Lollo Project, Frida Neri e Armando Dolci. Quindi grandi nomi della città per un evento eccezionale. Per partecipare all'evento è possibile prenotarsi contattando questo numero di telefono. Ci sono tutte le caratteristiche per non perdere una serata che è per la città e per ricordare Padre. Grazie a tutti!